Tutti belli ed interessanti film in concorso alla seconda edizione del Fuji Family Festival But the winner is As We Forgive dell'americana Laura Waters Henson una commovente rievocazione che concentrandosi sul tema del perdono rivive nei volti e nelle voci di donne provate nel corpo e nello spirito che non rinunciano però a rimettere in piedi la loro vita per amore di chi è rimasto ma anche in memoria di chi non c'è più Soddisfatto il presidente della giuria Alessandro Dalatri che spiega il risultato collegiale della scelta che nasce dai valori espressi e dalla qualità di questo documentario che affronta i temi, oggi largamente attuali, della ferita familiare e del perdono L'opera di Laura Henson, aggiunge il regista, contiene tutti gli elementi innovativi di cui il Family Festival è portatore in modo particolare i valori etici e morali spesso trascurati dal mercato cinematografico Grazie 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 a tutti